EYU, pomeriggio grande a fuoco e fiamme, pomeriggio a fuoco e fiamme, prossimo brano di un grande artista italiano, Biagio Antonacci, Iris tra le tue poesie, quanta vita c'è, quanta vita insieme a te e insieme a me, insieme a noi, insieme a tutti, Radio Paco Crisci, la radio dove andrà tutto bene, almeno questo è l'auspicio per tutti. IRIS tra le tue poesie, ho trovato qualcosa che parla di me, le ha scritte tutte col blu, su pezzi di carta, ritrovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come, dimmi cosa ascoltavi la mia vita, quando non stavo con te. E che sapori e che umori, che dolori e che profumi, che mi respiravi, quando non stavi con me. IRIS mi viene da dirti, ti amo e lo sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami e, tu che non lo rinfacci mai, E non vedi mai, dimostrarti come sei, quanta vita c'è, in questa vita insieme a te. La rea... 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 dimostrarti come se quanta vita c'è in questa vita insieme a te dimmi dove, dimmi come dimmi cosa ascoltavo la mia vita quando non stavi con te e che sapori e che amori che dolore e che profumi respiravi quando non stavi con me iri stiamo davvero e se questo ti piace rimani con me quanta vita c'è quanta vita insieme a te tu che ammi tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai dimostrarti per cose quanta vita c'è in questa vita insieme a te dimmi cosa ascoltavo la mia vita c'è dimmi cosa ascoltavo la mia vita c'è fuoco e fiamme fuoco e fiamme fuoco e fiamme spettacolare questo brano grande piaggio Antonacci un abbraccio a tutte le iris e gli amori in questo senso ciao